Quinta giornata Spring Cup in campo Real Tunisiana contro Sampdoria, scontro al vertice, 0-0, partita cominciata da poco più di 5 minuti. Attacca adesso Real Tunisiana con questo tiro. Santo Nicola e compagni provano a fermare la capolista. Prova a impostare la Sampdoria, forza fisica della Sampdoria con i due bestioni in difesa. Piccolini, piccolini. Anche il portiere, non è che... Il portiere anche si fa valere sempre. Non sono grandi, sono diversamente piccoli. Una partita da seguire, questa, tutti quelli che partecipano, scontro fondamentale. Real Tunisiana, prova ad attaccare adesso. Alcio di punizione. Prova, palla alta, dietro di fatto. La fatica alla Sampdoria. Mato ancora. Attacco dei Bucerchiati. Anche se i Bucerchiati ne hanno poco. Dietro, dietro Sampdoria, dietro ancora, va bene. Buona l'azione della Sampdoria, prova. Buona parata del portiere. Che rilancia subito. Finisce qui. Albitro autiero. Ancora la Sampdoria in avanti. Da solo. Prova. E per poco, non va in vantaggio la Sampdoria. Buona l'occasione. Benissimo, cosa va? Cavallo. Sperate il gol. Lo so, ora è tutto più chiaro. Sto iniziando a provare a reagire. Onorosati. Tanto Nicola, Tanto Nicola tiene palla. Adesso ferma tutto. Guarda che l'albitro è come bravo. Si, si. Si fa valere in campo. Appena arbitrato lo deportivo. L'autorità è in persona. Tacci munizione pericoloso. Sperate il gol. Andrò, giù, 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 giù. Sperate il gol. Ragazzi, ci fanno camminare nel cammino. Capo la idea. Capo la tia. Camminare nel cammino. E' la cacotta. E' la scala. Sezione, barriera e poi di Mani. Mani, fischia l'arbitro. Speriamo l'ultima azione prima di chiudere il collegamento. Sampdoria in attacco. Unizzo. E' fattuto. Unizzo. Inizio qui, chiudiamo il collegamento. Real Tunisiana. Sampdoria a 0 a 0.